Ciao a tutti ragazzi, io sono Filo Guido, scusate se per un po' non ho messo video perché ero impegnato, giustamente, mi dispiace però mi dispiace e questo è un video che ci abbiamo messo un po' per pensarlo in realtà non è vero, però ci abbiamo messo un po' per pensarlo quindi spero che vi piaccia e comunque il titolo del video sarebbe quando guido, ovviamente la macchina è ferma perché non abbia la patente anzi magari avessi una patente sarebbe il video quando guido con un mio amico però in realtà è mio cugino quando guido io e quando guidi tu sì, faremo diverse cose e quindi adesso vi lascio il video partiamo specchietto specchietto, va bene partiamo oh, il semaforo fermiamo accendo un po' di musica no va bene, guarda non mi va grazie per avermi fatto passare molto gentile ah, chi se ne foto della cintura ah, chi se ne foto del cambio, va vai, minchia oh niente, non fa abbassare chiediamo un po' di musica cazzo, non va la radio si è rotta la radio oh, che c'è, palle c'è il semaforo è rosso il semaforo ma ne passiamo che cazzo eh, oh, hey oh, che cazzo niente, sari oh, no, no, no oh, no sono presso paura stacqua no, non parto eh, ma non parto bravo forse sta andando troppo veloce no, devo andare un po' di meno i venti vanno bene ok sarà uguale la strada? non lo so mi fermo, non lo so devo controllare non ho il telefono dove vado? eh, andiamo sta calmo devo andare piano? ok ok bene dove vado? piano oh, va più piano 130 martinguez animus ho vinto la 30 le mani sulle alle macchinette non spezzare il volante bella raga cacchio, non si apre più lo spazzato bella raga 130 ma, dov'è? siamo a Roma come? no, a Napoli che cazzo non lo so io ma, è l'ovest? l'est? dove sto andando? siamo a... nel sole penso penso ma io dovevo andare a Torino eh, siamo in Toscana siamo pure a Torino Corinto allora, vediamo di qua c'è l'ovest o l'est? c'è il sud che tasto è questo? è il tasto per la distruzione questo? non è uguali? allora quello è per spegnere il cervello questo è quando tipo c'è la mareggiata e e quando c'è il mare per me questo non c'è più questo non lo so e questo è una chitarra perché c'è la scritta noma di una chitarra ma dove stiamo andando? io so tutto dove stiamo andando stiamo andando in Croazia anche andiamo a Stragaglia alle Maldive cosa hai cambiato? scusa niente niente where are you? ora fiamo un po' finestrina non si apre niente qua io so dove andare non come te dove stiamo andando allora? non lo so io però so tutto però non so dove dobbiamo andare non so proprio niente ma che strada abbiamo preso? ma stiamo scherzando? ehi che strada stiamo prendendo? devi vedere la mappa dei ristoranti no vogliate mappa dobbiamo prendere quella dei quella la fattura? sì esatto ora ci apriamo il cervello ok cervello ma cazzo mi è caduto il cervello però cerco il mio cervello cervello disperso ma io non sapevo che il mio cervello fosse come lo scotch cervello dove dobbiamo andare? non vuole parlare ma tanto io so dove dobbiamo andare io so troppo e questo era quando guido con un mio amico non è durato particolarmente tanto comunque avrete anche seconda la terza parte poi dipende magari con un altro veicolo esatto con la Lambo magari dico sempre magari perché magari in un futuro spero che il video vi sia piaciuto lasciate like commentate iscrivetei e ci vediamo la campanella se non c'è lui la vita non avrebbe senso la campanellina per la messa e ci vediamo al prossimo video volevo dire ci vediamo al prossimo video che vediamo al prossimo video ciao